Sono qui per aiutarti. Ma dove lo trovi un altro canale così? Iscriviti. Ma aiutarti a fare cosa? Esattamente. Innanzitutto comincio a dirti che c'è speranza. Non mi resta in testa la parte. Mettere in questo verbo la E va sempre pronunciata chiusa. Nessuno ha preso dentro nulla. Poi chi di noi, contando per prepararsi a qualcosa, è mai partito al duo? In un anno sul canale se ne sono viste di pelle. Ma il meglio deve ancora finire.